Tutte e sette le scuole secondarie di primo grado di Lucca saranno dotate di fontanelli che erogheranno acqua di qualità proveniente dall'acquedotto comunale. Il progetto, presentato martedì mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Orsetti, prevede l'installazione di circa 15 erogatori d'acqua nelle scuole medie del territorio, a un costo complessivo di 31.575 euro ed ecco finanziato dal comune e dal banco BPM con un contributo di 17.500 euro. L'intervento si colloca nell'azione portata avanti in questi anni dall'amministrazione Tambellini per favorire l'educazione alla riduzione dei rifiuti e al rispetto dell'ambiente. Questo servirà a educare i ragazzi a rifornirsi con delle boracce proprie, naturalmente boracce durevoli, in modo tale che a scuola possono usare acqua di qualità senza l'uso di plastiche. Del resto abbiamo già visto come l'uso del distributore d'acqua alla stazione ha avuto un successo notevolissimo che ha portato secondo i nostri calcoli al risparmio di circa 124.000 kg di plastica nel tempo che abbiamo collocato questo fontanello, si chiamano così, in quel luogo. I lavori per l'addestimento dei fontanelli inizieranno a primavera, al momento l'ufficio edilizia scolastica del comune sta verificando l'ubicazione più opportuna all'interno dei singoli edifici. Si tratterà di strutture in acciaio inox che verranno posizionate nelle sette scuole medie e che saranno in grado di erogare in un'ora 55 litri d'acqua di elevate qualità organolettiche a temperatura ambiente o refrigerata.